Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con Salvo Mandarà che vi parla in questo momento da un paesino, dalle parti di Lecco. L'Urago d'Erba, mi suggeriscono. Allora, oggi è sabato quindi l'orario, come sapete, è comodo. Ho dormito fino alle 10 abbondanti stamattina quindi me la sono presa molto comoda. Allora, un po' di cose. Prima di tutto, fra un paio d'ore mi sposterò da qui per passare da casa e poi recarmi dalle parti di Novara, esattamente a Bellinzago, Novarefe, dove alle 19 partirà una manifestazione contro gli F-35. Quindi ho già appuntamento con alcuni amici, in particolare con Pino, il mio amico Pino Di Brugherio che passerà da casa a prendermi e poi insieme andremo a Bellinzago, Novarefe. Quindi mi raccomando, state sintonizzati perché da lì ovviamente farò qualche diretta della manifestazione. L'appuntamento è alle 19, ci sarà una camminata di qualche chilometro, credo 4-5 chilometri e da lì andremo verso, se ho capito bene, verso proprio la città dove ci dovrebbe essere lo stabilimento dove dovrebbero assemblare una parte degli F-35. Bene, quindi per chi è interessato, insomma, se siete in zona magari venite, venite a Bellinzago, Novarefe. Se non siete in zona magari rimanete sintonizzati su questo canale e così potrete assistere attraverso la diretta streaming a quello che succede. Bene, saluto Luigi Conti che mi sta salutando in chat, ciao Luigi, saluti a te. Poi di che cosa vogliamo parlare? Beh, innanzitutto niente, vorrei dirvi questa cosa che ho scoperto ieri. Ieri ho avuto il piacere di conoscere una persona che si chiama Matteo. Per il momento non vi dico altro, ma vi dico, Matteo sarà il protagonista di un'intervista che faremo io insieme a Francesco Amodeo lunedì sera alle 19. Sarà un'intervista, devo dire, molto importante perché praticamente questo ragazzo, ripeto, si chiama Matteo, è uno dei circa 300 italiani che hanno presentato denuncia alla magistratura contro le massime cariche dello Stato per tutta una serie di ipotesi di reato. Queste denunce probabilmente hanno avuto tutto lo stesso destino, cioè quello di essere state insabbiate, perché non sono state archiviate, perché se fossero state archiviate i vari denuncianti avrebbero dovuto ricevere comunicazione di archiviazione e invece sto facendo un sondaggio attraverso la pagina fan dedicata a Paola Musu, che è l'avvocato di Cagliari che ha fatto questa denuncia il 2 aprile dello scorso anno e finora dai vari feedback che ho ricevuto, pare che nessuno abbia ricevuto l'informazione dell'avvenuta archiviazione della denuncia. Quindi queste denunce sono così in una specie di limbo insomma e c'è da capire qual è il destino di queste denunce. Comunque, però c'è stato un magistrato, un magistrato di una particolare procura, vedrete tutti i dettagli lunedì se verrete a sentire l'intervista, che praticamente con un bello scatto di zelo, direi con un eccesso di zelo, ha denunciato il denunciante per calunnia, perché lui sostiene che chi ha fatto la denuncia non ha approfondito abbastanza e non ha elementi a sufficienza per provare i reati di cui lui praticamente accusa le persone denunciate. Bene, quindi niente, io ho scoperto questa cosa perché appunto ero andato nella pagina fan Paola Musu per lanciare questo sondaggio per chiedere informazioni, novità riguardo agli esiti delle denunce presentate e mi sono imbattuto in un messaggio di questo ragazzo appunto che mi informava che la sua denuncia aveva avuto quest'esito un po' strano, cioè il magistrato anziché andare a indagare e verificare se i fatti denunciati fossero fondati o meno, ha ritenuto di denunciare e indagare il denunciante per calunnia e io ero tutto preoccupato, infatti ho mandato un messaggio tramite Facebook a questo ragazzo dicendo senti questo è il mio numero di telefono, per favore fatti vivo, chiamami, raccontami un po' più in dettaglio quello che è successo. Ho parlato di questa cosa anche con Paola Musu, la quale ovviamente era un po' dispiaciuta perché ha detto io quando ho fatto la denuncia non pensavo che ci potesse essere un esito del genere, in effetti bisogna chiarire una cosa molto importante, la denuncia esposto così come l'ha fatta Paola Musu e così come l'ho fatta io e altri 60, 70 o 100 italiani, non può esporre allo stesso tipo di conseguenza come è successo a questo ragazzo, perché la denuncia esposto che abbiamo fatto noi è appunto un esposto dove non si denunciano delle persone fisiche, noi non abbiamo fatto i nomi di Napolitano, Monti eccetera, ma noi abbiamo fatto i nomi delle cariche istituzionali, presidenti della Repubblica, presidenti del Consiglio, ministri e parlamentari dal trattato di Maastricht, quindi 1990-91 fino ai nostri giorni. Quindi la nostra denuncia, e poi cosa molto importante, noi non diciamo che queste persone hanno sicuramente commesso questi reati, ma ipotizziamo che probabilmente alcune di queste persone hanno potuto compiere questi atti e chiediamo alla magistratura di indagare e verificare se per caso si può configurare la commissione di qualche reato. È ovvio che una denuncia esposto così fatta non può avere come conseguenza una denuncia per calunnia, perché non si sta calunniando nessuno. Invece il modello di denuncia fatta da Paolo Barnard, che è stato applicato da altre persone, fra cui Matteo, fanno i nomi delle persone denunciate, quindi non si parla di cariche istituzionali, ma si denunciano proprio i nomi, nomi e cognomi, e in più si dà per scontato che quei reati sono stati commessi. E quindi è ovvio che un magistrato eccessivamente zelante come quello in questione, possono anche pensare di denunciare, di indagare il querelante per calunnia. però comunque questo giudice probabilmente non ha fatto bene i propri conti, perché in effetti, come vedrete lunedì nell'intervista che faremo alle 19 su Salvo 5.0, Matteo ci spiega che in effetti la legge non è stata applicata in modo corretto, perché praticamente questo giudice dà per scontato che il denunciante non abbia sufficienti elementi e addirittura privilegia un reato molto minore, perché è ovvio che la calunnia è un reato di entità molto minore rispetto ai reati presunti nella denuncia e quindi anziché andare a indagare per vedere se i reati che si ipotizzano nella denuncia sono stati effettivamente commessi, preferisce indagare per calunnia chi fa la denuncia, è come un po' io ti dico guarda lì c'è la luna e tu invece di guardare la luna guardi il dito, denunci me perché ho il dito che indica la luna invece di andare a vedere la luna, è esattamente questo il punto, quindi probabilmente questo magistrato avrà delle belle grane, perché Matteo come vedrete lunedì sta preparando una contro denuncia molto grave ai danni di questo pubblico ministero, proprio perché dice tu stai commettendo omissione dei dati d'ufficio e non puoi dare per scontato che io sto calunniando qualcuno se prima non verifichi, comunque veramente ne vedrete delle belle lunedì alle 19. Allora andiamo a leggere un po' di commenti, quindi Mauro Peressi dice mi spiace non poterci essere stasera ma guarderò la registrazione, ok quindi parla della manifestazione e invece lunedì sarà presente, Antonella Cancenta dice ciao salvo un abbraccio, ciao Antonella ricambio l'abbraccio e anche il saluto, Marco Garulli dice ciao salvo da mitico, oh finalmente ti fai vedere con il tuo nome e cognome caro Marco, ciao carissimo, poi Mauro Santarlasci bellissima la maglietta, ah ti piace la mia maglietta? eh sì, grazie, poi Vito Chiarello dice ciao salvo e io ricambio, infine Maurizio Tola 19 online, grazie salvo, sì alle 19 sia oggi per la manifestazione contro gli F35 che dopo domani per quanto riguarda l'intervista con Matteo e vi ricordo che l'intervista con Matteo sarà fatta non solo dal sottoscritto ma ci sarà anche Francesco Amodeo, lo conoscete perché l'avete visto nella puntata che abbiamo fatto mercoledì per parlare di chi ci governa, bene poi c'è Paolo Cogorno che mi saluta, ricambio e poi Luigi Conti, l'avevo già salutato prima, benissimo, carissimi amici, carissime amiche, questo era quanto volevo dirvi, quindi io adesso vi auguro un buon fine settimana, per chi può e per chi lo desidera ci vediamo fra quattro ore circa per la manifestazione contro gli F35 e poi eventualmente lunedì sempre per chi può e per chi lo desidera per l'intervista a Matteo per la storia che vi ho sintetizzato prima. Benissimo, io adesso vi saluto, vi abbraccio, vi auguro ancora una volta buona… Ah, ecco, visto che mi rimane qualche minuto, scusate, vorrei salutare… Marco mi chiede dove mi trovo, l'ho detto prima, mi trovo un paesino che si chiama… com'è che si chiama? L'Urago d'Erba, L'Urago d'Erba, dove non c'è marijuana, non pensate che il nome nasconda qualcosa di gaudente, si chiama proprio così, L'Urago d'Erba ed è comunque dalle parti di Lecco. Ah, Mauro Sant'Arlasci vieni con Pino, dai allora ci vediamo, dai, mi farebbe piacere. Quindi, poi, 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 cos'altro c'è? Sì, basta, risposta a Marco. Ecco, no, volevo dire in questi minuti che rimangono, volevo salutare affettuosamente Giuseppe Cruciani e David Parenzo, perché continuano ancora a interessarsi alle cose che faccio e che dico. Non ho ancora avuto modo di scaricare il podcast, anzi, non so neanche se lo farò, però ieri mi ha chiamato un mio amico per riferirmi che proprio all'apertura della trasmissione della Zanzara alle 18.35, Parenzo e Cruciani hanno parlato di me, hanno fatto sentire un pezzettino del mio mi scappa alla diretta, dove dico che l'Italia è una conolia americana e che questo è il motivo per cui succedono tante cose strane da queste parti. Ah, ecco, Vito parla della diretta da Catania, infatti sì, dovevano cominciare alle 3, quindi forse hanno già cominciato. Adesso vado a darci un'occhiata allora. Bene, salvo anche oggi i tuoi report spaccano. Dice Nicolò, Nicolò. Va bene. Sì, allora ragazzi, io adesso vi saluto, magari vado a dare un'occhiata alla diretta da Catania che dovrebbe essere, credo, gestita dal mio carissimo amico Giancarlo Lopresti. Oggi a Catania c'è veramente un importantissimo avvenimento con tanti parlamentari che raccontano proprio i primi 100 passi. Quindi ecco, vi invito adesso ad andare a guardare la diretta da Catania. Cercate in rete, credo che sia su Ustream, cercate Giancarlo Lopresti oppure Movimento 5 Stelle Catania, qualcosa del genere. Ci sarà sicuramente questa diretta da Catania per l'evento che c'è a Baiaverde con tanti parlamentari nazionali e regionali siciliani. Quindi vi invito ad andarla a vedere. Allora per il momento vi saluto è tutto, quindi veramente un abbraccio e un bacione a Giuseppe Cruciani e a David Parenzo che mi seguono con tanta dedizione e si occupano spesso di me nelle loro trasmissioni. Non chiedetemi soldi perché non posso pagarvi per questa pubblicità che mi fate, quindi lo fate et amore dei, giusto appunto per far conoscere quello che noi facciamo, quello che io personalmente faccio con i miei mi scappa la diretta. Vi sono molto grato per il fatto che diffondete il verbo, così magari sempre più persone potranno sintonizzarsi con noi ed essere informati. Quindi grazie ancora a David, grazie ancora a Giuseppe, vi voglio molto bene, un bacio affettuoso. Siete due giornalisti stupendi, fantastici. Bene, Salvo, ma quanto ci manchi sulla cosa? Mi dispiace, io purtroppo sulla cosa non riesco a intervenire molto spesso, intervengo quando c'è qualcosa di ufficiale, altrimenti non riesco, però non importa che ci sia io presente, sulla cosa ci sono sempre molti contributi interessanti, quindi ascoltatela a prescindere. Bene, non so esattamente il canale, comunque se voi cercate su Ustream, Catania, Giancarlo Lopresti, mettete delle parole così, sicuramente lo trovate. Va bene, ragazzi, vi saluto, vi abbraccio, ci vediamo quindi più tardi perché lo desidera, alle 19 da Bellinzago Novarese e poi domani per il Mi Scappa la diretta e poi lunedì per l'intervista. Bene, vi saluto, ciao a tutti, un bacione, grazie.